Ultima curiosità per Luca Borsetti, Fiorentina Basket e possibilità di rivederla con un titolo sportivo dato dalla FIP. Il tuo pensiero? Il mio pensiero è che se questa operazione che vede coinvolto Franco Tempesti che è un amico ed è una persona a cui voglio bene, ma se questa operazione è un'operazione per creare un'alternativa a quella che è l'attività non solo dell'ENIC Pino Dragons ma anche dell'attività dell'associazione di cui noi siamo espressione, no, allora secondo me è uno sbaglio. Se invece è un tentativo di arricchire quello che è la situazione fiorentina e il livello fiorentino per quel che riguarda la Palacanestro, beh, allora auguri. Comunque dobbiamo ancora vedere effettivamente quali siano le loro intenzioni, su quali sentieri si muoveranno. Ripeto, niente di assolutamente a prioristico per quel che mi riguarda, vediamo quali sono le carte, vediamo quali sono le loro intenzioni e se sono intenzioni volte a migliorare e a migliorarsi benvengano.